Musica Oh, ciao Marta! Ciao Guido! Ciao! Friggevo dalla voglia di farvi vedere la mia ultima opera, eh? Che vedete? Guarda qua, guarda, 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 guarda! È questa? Ah, c'è da For! Che bella idea! Spira il proprio nome con gli adesivi! Devo fare un po' di tempo! E dice un sacco! Hai visto? For! Bello, 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 bello! Sei le lingue tu? Devo dire che a JoJo's Mania ci sta contagiando proprio tutti, ragazzi! Beh, del resto questi piccoli mostri colorati sono così divertenti, che ispirano proprio! E voi ragazzi? A che punto siete con la vostra collezione di JoJo's? A proposito di collezione sport, dunque, a telefono, sai da come si chiama? Andrea, lui, eh! Ha detto che ha il fantasmostro e devi richiamarlo! Quello giallo? Sì! No, mi mancava per finire la mia collezione di gialli! Allora richiamalo, presto! Chiamalo, chiamalo, chiamalo! Andiamo al dunque, per favore! Ah, sì, sì, sì! Facciamo una partitina! Ok, ci sto, ci sto! Bulling! Vai! Bulling! Tu fai l'arbitro! Becca il mostro, becca! Ok, pronto? Ragazzi, caspita, troppo forti i JoJo's! Si possono inventare mille giochi diversi! E allora correte in edicola! I vostri JoJo's vi aspettano! Due JoJo's e due adesivi mostruosi in ogni bustina a 1500 lire! Alla prossima partita! Ma lì c'è ne è uno che mi manca! Oh! Eh, ma che è successo? Ma che è successo? Ma c'hai da piangere? Ero convinto di avere finito la collezione dei JoJo's verdi! E invece mi sono accorta che me ne manca uno, il 19! Ah, in linguacciuto vuoi dire! Ma pensa che l'ho trovato io per terra di là prima! È questo! Mio salvatore! Oh, eroe! Ale! Ho finito i JoJo's verdi! È la terza collezione che finisco! Ah ah! E tre! E adesso noi invece vogliamo fare una partita al Mostrilli! I Mostrilli! Ci sono! Ma lì! Bisogna colpire i più Birilli possibili! I più Mostrilli! Non ti ho buttato giù! No! Sei addirittura! Che manina faccata! Tu ti sei allenata, eh, a casa! Non ti ho capito! No, 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 io è brava di me! Marta ne hai rubato qualcuno, ti ho visto! Eh, che brava! Strike! Li ho atterrati tutti io, mi dispiace! Ragazzi, questi piccoli mostri colorati sono davvero irresistibili! E sapete perché? Perché ci si può giocare, si vincono, si perdono e poi si vincono! Insomma, stanno diventando una vera e propria mania! Perché? Perché i Jojos stanno conquistando il mondo! E i Jojos vi aspettano in edicola! A 1500 lire troverete questa bustina all'interno della quale ci sono due Jojos coloratissimi e due mostruosi adesimi! Che potrete appiccicare sull'album fantastico come questo! Ciao a tutti! Alla prossima! Dai Guido, facciamo un'altra partita! Va bene, mettere in posizione! Vedere, vedere, vedere! Eh!